Ma su questi temi non credo che la questione debba essere catalogato come centrodestra e centrosinistra. Noi abbiamo un voto normativo su un tema che riguarda i diritti delle persone e questo voto normativo non ha un colore, non è neanche di destra o di sinistra. Noi abbiamo fatto un danno al Paese, il Paese continua ad avere questo voto normativo e questo vuol dire che c'è chi potrà continuare a discriminare impunito. Questo è quello che mi interessa. Poi le analisi politiche le lascio a chi ha trasformato questo scontro in uno scontro tutto politico, ideologico per guadagnare un punto percentuale sui sondaggi. Noi abbiamo fatto un altro lavoro che ci ha fatto anche perdere in consenso perché è facile dire voglio la legge così com'è, fare le dirette social, andare da Fazio a parlare. Poi però per fare passare la legge servono le mediazioni. Il nostro percorso avrebbe prodotto una legge e oggi saremo tranquilli. Invece il percorso che ci hanno propinato PD, 5 Stelle, scontro frontale e il centrodestra che ha chiesto il voto segreto ha portato questo Paese a non avere ancora una legge. Come è possibile che in la Camera dei Deputati questa legge andava bene e arrivare al Senato bisogna sicuramente cambiare la legge? Questo lo devi dire a chi ha mantenuto il bicameralismo in questo Paese. Fin quando c'è il bicameralismo in questo Paese, noi non lo volevamo, abbiamo fatto pure un referendum, ogni Camera discute. Vi ricordo che da una Camera all'altra sono cambiate le condizioni politiche perché quando è stato approvato alla Camera c'era una maggioranza politica con un governo che avrebbe probabilmente anche chiesto la fiducia sul testo uscito alla Camera. Quando è arrivato al Senato c'era il governo Draghi, non c'era un governo che avrebbe chiesto la fiducia e quindi non cambiate totalmente le condizioni, o capisce se sono cambiate le condizioni e quindi devi sforzarti di allargare la maggioranza in modo che anche se ci dovesse essere un voto segreto, comunque sei tranquillo che li mandi sotto oppure vai a sbattere contro un muro e quello che è accaduto e si assumeranno le responsabilità quelli che hanno blaterato perché hanno blaterato in tutti questi mesi dicendo vogliamo la legge, il DDL Zan e tutto il resto e poi oggi ci troviamo con un pugno di mosche nelle mani. E quindi non prende perché l'Italia Viva ha cambiato questa... Ma io non lo so perché tu non lo comprendi, io te l'ho spiegato e te lo ribadisco. Noi non avevamo i numeri al Senato per approvare il provvedimento com'era alla Camera e quindi avevamo proposto mediazione... Non avevamo votato contro il centro-destra, noi abbiamo votato contro il non passaggio agli articoli l'abbiamo dichiarato e l'abbiamo votato, poi naturalmente il voto segreto comporta il dubbio di chi è che non ha votato e ora ci sarà tutto il giochino, è stato questo, è stato quell'altro. Per evitare il giochino di è stato questo, è stato quell'altro bisognava o non chiedere il voto segreto e il centro-destra ha sbagliato a chiederlo o evitare di arrivare a questo punto e quindi non ci sarebbe stato lo scontro, si creava una maggioranza ampia quindi oltre quelli che avevano votato dalla Camera si sommava almeno un'altra forza politica ci prendevamo un margine, poi chi chiedeva il voto segreto lo chiedevano, andavano sotto invece così ci hanno portato al massacro. Quindi puoi parlare di un tatticismo da parte comunque della Lega e del desiderio interstellari? Ma no tatticismo, il problema è che hanno trasformato tutte le forze politiche permettetemi di dire con un po' di presunzione, tranne Italia Viva hanno trasformato un dibattito che riguardava la discriminazione, hanno trasformato un dibattito politico in uno scontro ideologico per guadagnare punti percentuali io credo che tutto questo non sia stato un bene per il Paese, occhio che vi investo.